Oggi ogni morte è la death run impossibile ragazzi, subirò uno schiaffo dai miei amici, signori siete ca- AOOOOOOH Noi siamo carichi e te? Eh sì, ero carico fino a questa volta, questo schiaffo qua Signori, allora ve lo dico, partite avvantaggiati perché Poua inizia a laggare Oggi sto abbastanza laggando raga, quindi... Allora, diciamo la cosa, chi parte con lo schiaffo? Facciamo in ordine Esatto, fate in ordine che così almeno... No, no, scuola una roba, ogni volta... Ogni volta... Ah, ogni volta... Ah, tutti quanti? No, 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 guarda, è uno schiaffo Ragazzi, è uno schiaffo, non sono 14 schiaffi Comunque... Siamo uno schiaffo anche perché lo riempiamo, povera Esatto, comunque raga, guardate qua una cosa, rimane ancora tantissimo E soprattutto io ho fatto i primi livelli, no, 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 oh Non, 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 non si, non puoi, non puoi Ok, ero un attimo grasciato, signori, eccomi qua Oh, no, no, non iniziate ragazzi, ho capito che... Oh, no, evita, evita, evita Ok, no, perché... Conti, tu ste mani Conti, cos'è che stai facendo tu, non puoi fare niente, Conti No, basta No, ragazzi, giuro Non va la tastiera Godo, è Godo, Godo Ragazzi, mi sta toccando tutto Non va la tastiera È normale che non va la tastiera Oh, oddio Non so come me c'è Sì No E va a cagare allora Guarda, io schiaffo No, me l'ha appena dato, me l'ha appena dato Me l'ha appena dato No, non si dà in spia Piano, se no te ne arriva uno, eh Piano, se no te ne arriva uno Piano, se no te ne arriva uno No, non le tolgo le cuffie Allora, facciamo un po' di spazio Allora Basta, mamma mia Ragazzi, giuro che la prossima volta che fate Cioè, che tu fai un video del genere, Conti, è finita Eh, ho capito Eh, però Vado avanti, vado avanti, ragazzi Sono i miei ragazzi Intanto, signori Voi, super importante Non fate cagate Signori, voi, super importante Da casa Iscrivetevi al canale Codice Powa Nel negozio oggetti, ragazzi Mi raccomando Codice super importante Non fate cagate Hai rotto Giuro, ma adesso gioco così, ragazzi Adesso gioco così Tanto è wireless È wireless? È wireless, sì È wireless Ok, sì Ok, ragazzi Posso proseguire, eh Tanto gioco così, eh Bravo, bravo, bravo Ok, ok, super forte A parte che con quel petto Non si muove nulla ormai A parte che con Detran è impossibile Ah, ah, ah Detran dei bambini, palesemente Oh, Detran dei bambini, ragazzi Non lo dite sicuramente nel mio video Perché stai trasportando 10 secondi Perché guarda il mio ping Ogni tanto laggo Ogni tanto laggo Ogni tanto, no Quindi Peggio ogni tanto laghi sempre Esatto, prendi questo video, ragazzi Sto super laggando Però intanto Che è che a livello 2, signori Ho fatto solo una morte Eh, sì, speravate Ma è difficile non cadere se ci siamo No, 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 Conti Basta, hai rotto Basta, basta Ma cosa basta? No, no, no Non me lo do lo schiaffo Non me lo do lo schiaffo Giuro, raga Non me lo do lo schiaffo Ficchia dirai un po' di schiaffio No, 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 no Basta, raga Oh, giuro Può succedere quel che può succedere Non Non voglio Adesso, adesso 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 Ti trasporti nel nulla, per favore Sì, sì, sì Eccomi Ah Brutto Oh, Conti, basta, per favore Conti O ti arriva lo schiaffo, eh Fallo un'altra volta Non mi dovete pestare ora Don calma Oh, guarda, anche ferro si mette Ma vabbè, ventole, boba Ragazzi Per favore Vai avanti Eh, non posso se sto laggando Allora, direi gli schiaffi, scusa No, no Finché non smettiamo gli schiaffi Comunque vorrei far notare qua Fai vedere bene qua Non lo faccio vedere Non lo faccio vedere Non lo faccio vedere Eh, perché fa Tu dice meglio il colpo No, perché fa molto caldo Perché fa veramente È vero, potevo usare una maglia No way Però, sinceramente Hai avuto culo Ti sei deltrasportato sul Ma io non capisco Ho avuto abbastanza culo Devo essere sincero, eh No, ragazzi Veramente, dai, basta Non vale Devo giocare di mio Evitate cose Nessuno ti sta toccando Secondo me mi state Manomettendo la connessione Manomettendo la connessione È che È che? Stati toccando la mia La che mi fa Si caricano la sera Ah, eh Durante il giorno Per questo motivo Comunque, signor Godo Ok, tocca a me Tocca a me No No Non forte Che già me ne sono arrivati Guardate qua, ragazzi Guardate qua Tutto rosso, eh È tutto rosso Me ne sono arrivati Dove vuoi L'importante è basta Che non mi ammazzi Sulle palle No, ragazzi No, sulla gamba No No, sulla gamba Con calma Con calma Questa non si è andata di più Di quella di Conti Intanto, raga Meno male che ci sono i checkpoint Poi Poi tocca a fe Oh, mio Dio Stavo cadendo Non so come ho fatto a non morire Lava le pentole Eh, raga Le pentole Perché? Perché dovevo lavare? Cos'è che dovevo lavare? Le pentole Le pentole Vai lavare le pentole Se non lavi le pentole Powa Noi ti picchiamo con scafio Praticamente questo qua, ragazzi È un meme che è nato in villa Facendo vai lavare le pentole Oh Mi prego poi andare avanti E signori, eccomi qui Senza un minimo lag Senza una minima morte Perché oggi, giuro, ragazzi Giuro che non ne perdo una Dopo le due morti Infatti, ho detto No, non ho detto Tu sai che se per sbaglio Non sai se sei morto Vogliamo provare? Vai, provare Tanto ci si può aggrappare qua, no? Sì Aspetta, eh Aspetta, ok, faccio così No, questo qua non mi fido Questo qua neanche mi fido Questo qua mi fido Non ci si può aggrappare Tocca a me Cos'è? Oh, cos'è? No, dai Oh, no La nocca La nocca Ah, la nocca Oh Pezzo di merda Con le ossa Con le ossa l'ha fatto No, raga Ho lagato È lagato qua dentro È lagato qua dentro Ho lagato, dai, dai, dai Oh, raga Oh, raga Raga Non lo posso fare Ricordati che dopo Sarà peggio Mannaggia Ragazzi Fanno dei rumori Poi Mannaggia Oh, ma Tu farò con che mi hai preso Proprio qua, ragazzi Dove c'è la mascella Poi qua Dove c'è L'altro pezzo di mandibola Allora, in realtà Mi sbaglio tutto Perché questo qui è la rotula E questo qua è il perone La rotula sta qua Il perone sta qua Consiglio, occhio alla tibia Ma il perone sta qua Stai attento al gomito poi Perché fa male Come il cuore batta ancora Oddio Signori Ogni tanto faccio delle finte Ogni tanto faccio Delle finte Esatto, ragazzi Come va? È veramente Perfetta la connessione In Villa The Boys A me va benissimo Oh Semigrettata, eh Fatti, fatti Ragazzi, sto veramente pregando In questo momento Sto veramente pregando In questo momento Ok Eccolo qui, signor Ah, ma da qua sopra Devo andare Mamma mia, ragazzi La cosa che Non ci si può attaccare No, esatto La cosa che non ci si può attaccare Ragazzi È bestiale È bestiale È una bestia Che ti pre... Erirei Inizio il cene Erirei Aspetta, aspetta Non scaldarti Mi si tanto le mani però Inizio il cene Allora, Powa Cosa c'è qua? Guarda bene qua Cos'è che c'è lì? Guarda, guarda bene Abbassati bene Guarda bene No, il coppino No, eh Il coppino Oh, ragazzi Mannaggia a voi Quanto mi vendicherò Quanto mi vendicherò Con le due dita Bastardo Mamma mia, ragazzi Io giuro Perché il video Ma dobbiamo fare più spesso Ma infatti Può fare più spesso Sì, sì, sì Sul mio canale Che subisco io le cose Oppure sul mio canale Ma che subite Subite voi le cose No, naturalmente Ah Tantissimo Vabbè Vabbè Ragazzi Io 5 euro Lo farei Ma se ti faccio un video Così facessi finta Di rompermi la gamma Poi dovresti pagarmi In assicurazione della gamma È vero? No Quindi dovresti rimborsare Un po' di soldi No No Zero Comunque ragazzi Guardate qua Livello 3 Incredibile Il po' Il giocatore più forte Dalla storia Sono nelle trappe Guarda qua devi stare attento Oh Qua si muore Qua si muore Io sono stracapace a farlo Allora Tu sei capace a farlo Vediamo Ragazzi Guardate Guardate Eh signori Eh su No, no, no Invece ci sono Ok Quando Non c'è Vedrì 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 Che merda No No Guarda bene Fai conti Guarda bene Ciao Guarda Fai che conti Non lo so Questo però Livore Mamma mia No Oh Ne stai dando troppe No Ok Meno male Questa qua non era Questa qua Questa che era abbastanza di forza Però Cioè Non era veloce È ripresa qua Ah Non è ripresa il check pod Point Sei un pollaccio Ma domanda Ma se lancio l'impulso così al calzo Perché non ti lancio io Conti Perché non ti posso lanciare io Ti lancio Bravissimo Eccolo qua Eccolo qua Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ah vedi Prima non me l'aveva preso Salta Salta Perfetto Perfetto Direi che è super perfetto Ho la trappola sinistra Mi raccomando Ok 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 ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Qua Oh 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 Guarda che si sta iniziando un'altra Oh 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 Oddio Oddio Ma funziona Oh mio Dio Ti ho detto che non ci sono Ma perché non ti fidi Zio Pera Perché Salta 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 In un modo o in un altro non mi fido Perché devo saltare Non salto Non salto Non ci sono Ok scusatemi che sono tipo super concentrato Quindi devo anche capire quello che dico Oltre a quello che faccio su Fortnite Devo capire quello che dire Tutto quello che dire fare io Ok qua devi stare attenzione Che non potevo Esatto Vabbè ragazzi Qua è facilissimo Qua ragazzi faccio Ce lo faccio Qua lo faccio ad occhi chiusi raga No 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 non lo faccio ad occhi chiusi Non lo faccio ad occhi chiusi Troppo rischioso eh Ok ok Perfetto eh Conti t'ho visto eh Sai che è stato ma l'ho visto Allora se moccate Devi lavare le pentole stasera Ferro carissimo ferro Perché c'hai qua la mano così Dai come devi morire per favore Io ragazzi non muoio Non muoio neanche Ah capito sul dietro Io aspetto che il pink si abbassi Ragazzi perché Non voglio che faccio i suoi giochetti Vai ora E si vola E si vola Ah si ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ok Ma infatti ragazzi Io sono il giocatore Oh 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 Culo Perché devo comprare Oh Oh mannaggia Ragazzi che goduria Con il goduria E meno male che ho il braccio fermo Mi chiamavano Sapete come mi chiamavano Meccanica man Chi sa perché hai il braccio destro No Mamma mia Che bastaso Super Guardate ragazzi che io Eh perché io c'ho paura Di qua Ok ci sono Ci sono Ci sono Allora ragazzi Ma te la faccio io Te la faccio io Sì 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 ma la vuoi far tu Allora ragazzi io vi propongo una sfida Vai Questa qua è l'ultima volta in cui io muoio Poi il video termina Ma vi sfido a darmi Lo schiaffo Uno schiaffo veramente forte A testa No non a te Uno solo Una volta che muoio Io non me la sento raga Io me la sento Ok allora qua Qua non c'è Lo schiaffo insieme Tutti insieme Possiamo fare una roba del genere Conti leva la mano Grazie mille Ok Questa volta che muori Il mio schiaffo Ragazzi non glielo diamo Io glielo do sul collo No ragazzi Non lo faccio più cammino Ragazzi ho veramente paura Ragazzi tutti insieme però Non uno dopo l'altro Tutti insieme Quindi contate Due Uno via Sì vabbè adesso è esagerato Il video per faccia Il video termina qua Ragazzi Il pò rimuore Quindi altro schiaffo Ottimo Allora